Album 13 Tanti set a disposizione Regali Ottimi anche da fare per il Natale Perché no? Scusate ma il caricamento dà problemi Grazie Naturalmente ripeto che Mi è arrivato un messaggio Ripeto che non vendo Yves Rocher Quindi io lo faccio solo per sponsorizzare Ed aiutare chi magari Non ha il catalogo a disposizione E quindi lo può vedere anche qui E poi potete rivolgervi Alle vostre consulenti Qua sta piovendo Da fa schifo Vabbè Ma l'acqua ci vuole Eccoci Non so perché ogni tanto Mi si risto Dovrei togliere la rotazione a cellula Non c'entra nulla però Però sono carini I packaging di Yves Rocher Sono belli Colorati Vivaci Attirano anche molto l'attenzione Voi che ne pensate? I prodotti non li ho mai provati Effettivamente Però Viene proprio la voglia di provarli Io spero ce la faccia Perché qui Va molto 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 Non capisco perché Si è bloccato Qua è tutto Completamente naturale Vai su Questo è il venitivo E poi Forse ce la faremo Queste dovrebbero essere maschere Ma Non capisco perché Il suo cellulare Mi fa così Il PDF ci vuole Di più Rispetto al catalogo normale A proposito Il fior d'aliso Non voglio mica la luna Giusto per scazzare un po' Mi fate caso Ma è l'orario Che ogni tanto Fa così Sballa Poi Poi sono Fuori Questi Di Ognun tot Di Di Spesa Ti regalano Roba Ma è proprio Un regalo Non lo devi comprare Certo che Se si fa di questo passo Mi sa che domani Siamo sempre qui Comun 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 più che altro mi interessava perché venisce molto chi ha la pelle ingretti fa così è bella sta page ma è bello almeno si ricaricano due insieme non immo dai non grossi green profumi aumentando mamma mia trattamenti i capelli non so che livelli siamo un poco questo per caricarsi ci vuole un bel pomiso mangua mamma belle questi sono gli antilabbra questo speciale corpo capelli un po' di sette per 8 minuti siroppetti non so cosa siano questi mi dispiace ma non vi lo so dire ci sono anche per i capelli hanno anche l'aceto ecco vai abbiamo finito questo mi sa che ci vorrà un bel po' per caricardo comunque ce la faremo ciao a tutti e al prossimo video